signore e signori ecco i pescatori col buco nel ghiaccio stiamo pescando con il buco nel ghiaccio a che bel campano state guardando il ritorno dell'oro di petosino il grande re del laghetto è tornato e li ha messi in fila tutti alla letra però roccioso è attavico eh l'ha giocato una bestia quanto era sandro attorno i 4 chili infatti ci ha tenuto una bella mezz'ora vabbè vedremo gli sviluppi comunque bel campano grande ritorno